La Basilica di Santa Maria della Salute di Venezia avrà presto un nuovo volto bianco e luminoso. Le facciate saranno oggetto di pulizia e di un restauro. Per il recupero sono previsti alcuni step. Il primo vedrà proprio l'intervento esterno e i lavori dovrebbero terminare per la fine dell'anno. Poi verranno predisposti ulteriori tempi per altri recuperi. L'intervento definito straordinario ma necessario prevede una spesa di circa un milione di euro. Sarà sostenuta attraverso il bonus facciate e la presenza di sponsor su un grande tabellone pubblicitario che è già stato affisso su una delle facciate esterne. Si tratta di un lavoro atteso da tantissimi fedeli che ogni anno visitano la Basilica con grande devozione. La cupola della Basilica della Salute caratterizza lo scenario del bacino di San Marco a Venezia da più di 300 anni, testimonianza autorevole dell'altissima spiritualità che segnò il 600 veneziano. fu voluta dalla Serenissima come preghiera e come ringraziamento alla Vergine Madri di Dio per preservare la città di Venezia dalla terribile peste del XVII secolo.